La mostra Campione in Stoffa Si tratta di una mostra che illustra lo sviluppo e la preparazione dei campionari che costituiscono l'elemento essenziale della stagione dell'anificio. La mostra è allestita in due distinti settori. Nel piano terreno della fabbrica della ruota sono esposti una serie di tessuti storici prodotti dai più importanti lanifici biellesi. Dal momento che la mostra anche delle finalità didattiche è stato allestito quello che noi chiamiamo e definiamo un telo delle lavorazioni tessili nel quale vengono illustrate e sintetizzate in un modo tecnicamente corretto tutte le varie lavorazioni. Invece nel primo piano dell'anificio l'allestimento è interamente dedicato alla produzione dei campionari. Iniziamo con il tavolo del disegnatore. In un video possono essere ascoltate dalla nuova voce dei protagonisti le caratteristiche delle produzioni tessili biellesi. Esiste poi un'esposizione con i campionari storici e attuali che partendo dal 1861 arrivano fino al 2011. Di fatti la mostra è inserita nelle manifestazioni organizzate in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia. Grazie. 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 Grazie.